Due ragazzi poco più di vent'anni passeggiano tranquilli mano nella mano nella centralissima via Umbria, entrambi di origine brasiliana, in vacanza pescara per loro un momento di relax e spensieratezza che certamente non potevano immaginare si trasformasse in un incubo. La giovane coppia è stata sorpresa a questa altezza di via Umbria vicino all'incrocio con via Trieste. Siamo a una cinquantina di metri dalle telecamere di videosorveglianza di un negozio di abbigliamenti. Il titolare ci ha dichiarato di aver fornito le immagini dalle quali però si vedono soltanto le gambe, quindi poche indicazioni a tal proposito. Altre telecamere invece sono alle nostre spalle in un'abitazione qui all'angolo e anche sopra questo palazzo. Intanto i due ragazzi aggrediti dopo aver ricevuto le cure al pronto soccorso hanno deciso di ripartire per Roma dove vivono e da dove erano giunti a pescare per passare una tranquilla giornata al mare. Secondo fonti investigative poco si evince dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza se non qualche indicazione sulla fisionomia dell'aggressore. Ripetiamo un uomo sui 30 anni di corporatura robusta. Si precisa inoltre che in apparenza l'episodio non ha nulla a che fare con la presenza in zona di un locale gestito da Casa Pound e su questo si sono incentrate le polemiche innescate da alcune reazioni in particolare da parte dell'Arcigay e del segretario nazionale di rifondazione comunista Maurizio Acerbo. Può essere che sia solo una coincidenza ma credo che sia doveroso da parte delle forze dell'ordine andare fino in fondo. Voglio ricordare che la sede di Casa Pound a Bari è stata chiusa dopo un'aggressione a una donna eritrea che veniva accompagnata tra l'altro a casa con bambino in carrozzina da una nostra parlamentare europea. Hanno subito un'aggressione e poi è venuto fuori che gli aggressori erano militanti Casa Pound. Io dico semplicemente indagare anche perché è noto che noi come Lampi chiediamo da anni che queste organizzazioni neofasciste ai sensi e costituzioni siano disciolte. Raspingo con forza ogni tentativo di strumentalizzazione nei riguardi di questo spiacevole episodio avvenuto a Pescara, dice Mirko Iacomelli, candidato sindaco per Casa Pound alle scorse amministrative a Pescara. Come peraltro confermato dagli inquirenti, la presenza del nostro locale in via Umbria non ha nulla a che vedere con l'aggressione ed aggiungo che in dieci anni in quel locale e nei dintorni non è mai accaduto nulla e mai sono stati creati problemi. Tra l'altro gran parte degli iscritti di Casa Pound era a Roma per partecipare ad una manifestazione. Siamo al consueto strano esercizio della democrazia, dice ancora Iacomelli, riferendosi alla richiesta dell'Arcigay di chiudere i luoghi dell'odio, quello ovvero di negare la libertà di espressione delle proprie opinioni. E per tutta risposta a Cerbo cita Gabriele D'Annunzio. Lo stesso D'Annunzio durante l'impresa fiumana e nella sua vita ha sempre sostenuto la tolleranza rispetto all'omosessualità, quindi questi esponenti oscurantisti studino un po' i loro beniamini che forse ci guadagnano anche in apertura mentale.